Sono Andrea Colussi, ho 49 anni, la mia esperienza lavorativa proviene dal settore dell'automobile, in qualità di commerciale, sono di Reviso e a un certo punto della mia vita ho deciso di reinventarmi con un nuovo progetto. Prima del settore dell'automobile avevo già lavorato nel settore del ciclo, dove praticamente ho mantenuto la passione per la bicicletta da città. Era una passione che, diciamo la verità, l'ha avuta fin da piccolo, in quanto mi costruivo io le biciclette da solo e da qui nasce il progetto di una bicicletta innovativa, realizzata assieme all'amico Giulio Gianturco, designer, in collaborazione con Gianpietro Lorenzon. Una delle competenze che questo progetto ha messo insieme è Gianpietro, esperto in stampa 3D. Uno degli aspetti che ho portato avanti in questo progetto è stato, assieme alla progettazione fatta con Giulio Gianturco, la realizzazione di prototipi che sono stati fatti tramite stampa 3D. Questo è uno dei primi prototipi che sono stati fatti e sono serviti per risparmiare tempo in fase di valutazione del prodotto e anche per fare delle valutazioni sia estetiche che meccaniche dell'oggetto che dovevamo andare a realizzare. È una bicicletta smontabile, realizzata in alluminio e carbonio, quindi un mix di materiali. Il progetto nasce proprio come prima idea nel giugno del 2013. Nel corso di questo tempo sono stati realizzati diversi prototipi. Il primo in assoluto per vedere un effetto estetico, i successivi prototipi, che sono cinque, sono stati realizzati per garantire la sicurezza del telaio. Telaio in alluminio, elementi in alluminio smontabili, ricavati da barre piene, lavorati a CNC che controllano un medico computerizzato e forcelle in carbonio. I modelli donna, in questo caso ho in mano il telaio del modello donna, poi c'è, ci sarà il modello uomo. Verranno prodotti in diverse taglie, due per la donna, tre per l'uomo, e verranno anche prodotti in due barra tre versioni. Nel completare il progetto si è deciso di dare importanza anche all'imballo. L'imballo sarà una scatola in legno, omologata anche per le spedizioni internazionali come gli Stati Uniti, che hanno delle caratteristiche importanti in questo campo. La commercializzazione di questa bicicletta inizialmente abbiamo previsto due canali. Uno che è internet, non subito con l'e-commerce, ma in un secondo tempo, e dopo l'esposizione esterna presso negozi di abbigliamento, negozi di arrendamento qualificati, fiere. La realizzazione di questo progetto ha comportato sicuramente una serie di difficoltà, risolvibili comunque. Uno è trovare delle competenze come i designer, chi fa stampa 3D e chi ha avuto anche l'idea innovativa degli elementi smontabili. Dopo l'idea c'è la parte economica. Dopo lunghe ricerche sono riuscito a trovare il microcredito per l'Italia, che mi ha dato un contributo importante e un aiuto importante per la realizzazione del progetto. L'obiettivo imprenditoriale è quello di vendere, diciamo così, non subitissimo, comunque avere un obiettivo di 100 biciclette in un anno. Il sogno innanzitutto è quello di dire ho fatto, ho saputo fare qualcosa, ho realizzato qualcosa di nuovo e di bello. Dopo, su queste basi qua, io penso che i risultati, se c'è la voglia di fare, la volontà e avere proprio, desiderare un qualcosa in maniera profonda, i risultati ci sono e verranno fuori.